La storia è molto giovane, si è insegnata a luglio, siete a Torino? No? Un po' prima, mi ricordo? No. Ah, vabbè, più recentemente ancora. In ogni caso, appunto, la vostra sede è a Torino. Ci spiega, Presidente, visto che questa è anche l'occasione di presentare un po' al vostro divieto da visita, qual è la vostra attività e il studio si è dovuto cimentare un po' più bello e un problema che è stato proprio l'ugenta di questi giorni. No, per niente, non è una sua competenza. Buongiorno, no, volevo ringraziare per questo invito e sicuramente, come la potenza Fricci ha detto, io ho cercato di partecipare a questo incontro per testimoniare l'importanza e l'attenzione dell'autorità di regolazione dei trasporti e dell'autorità di trasporti costituite il 17 di settembre del 2013 e il 65 giorni fa, noi siamo stati nominati il 16 di settembre siamo stati desigliati a luglio, ma poi nominati con pubblicazione interzente il 16 di settembre ci siamo costituiti il 17 di settembre e al momento, mentre parlo, non siamo pienamente operativi e per essere operativi ovviamente dobbiamo avere un minimo di personale oltre a quello che ci ha assistito fino adesso e dobbiamo definire, secondo le amministrazioni pubbliche che svolgono le attività di regolazione del settore di cui abbiamo competenza, dobbiamo definire notamente il passaggio delle competenze e conseguentemente assicurare i soggetti regolati il confeso e il consumatore e il più sottolineo che non avvissima discontinuità nell'azione amministrativa in corso questo prosodimento è in corso che ha avviato ovviamente siamo in fase avanzata quindi io posso dire che siamo vicinissimi all'applicazione operatività ma al momento non siamo dal punto di vista amministrativa però gli obiettivi saranno chiari come la Presidente dell'Autorità dei Gas parlava delle cittadini a modernare la rete di Galleria a che fare invece con un'altra rete molto problematica come per il nostro Paese ma magari forse è una rete sola andiamo a che fare con una pluralità di modalità di trasporto e a prescindere, come diceva bene la relazione introduttiva del Professor Bassani a prescindere dalle diverse modalità con le quali avviene il servizio di trasporto ben inteso noi abbiamo una grande attenzione e avremo una grande attenzione non solo perché la legge istitutiva dell'autorità lo prevede ma anche per pensare assolutamente con me e questa è la ragione per la quale sono qui avremo una grande attenzione alla tutela dei gritti del cittadino utente consumatore utente di trasporto come avremo ovviamente una grande attenzione ai gritti delle imprese di accedere e usare in modo costitutivo e efficiente le infrastrutture le infrastrutture di trasporto altre caratteristiche delle infrastrutture essenziali e non economicamente utilizzate io sono veramente molto breve se mi permette perché voglio dire non abbiamo a differenza dalle altre autorità proprio sulla base di quello che ho appena detto non abbiamo un'esperienza concreta che non abbiamo testato identificato non abbiamo maturato sul campo non abbiamo sviluppato il piano che occorre i consumatori le loro associazioni le loro pianificazioni quindi non posso fare riferimento al passato non potendo fare riferimento a queste progresse ha solo l'opportunità di fare molto bene speriamo posso solo dire che questo è il senso della mia presenza ripeto che il problema si interessa tantissimo e lo seguiremo con grande attenzione trovo molto convincente l'illustrazione del professor Bassan e anche gli interventi che in questa scia sono venuti i presidenti che mi hanno diseguito trovo molto intelligente quello di immaginare un sistema di interventi in un t-layer a più strati senza dare necessariamente priorità l'uno all'altro se piace dovrebbe dire c'è un'azione corale in questo contesto mi ci trovo assolutamente e credo che il lavoro di rispetturata la parola tavola comune diciamolo sicuramente è un punto sul quale io mi ricordo fin da ora in origine d'altra parte su queste materie ci siamo anche recentemente incontrati in altre sedi come presidenti di autorità come istituzioni e credo che continueremo in questo modo mi limiterei a questo però appunto lei prima io ovviamente le ho chiesto se vi siete già dovuti interessare ai fatti di Genova no perché non siete operativi però un pensiero su quella vicenda se lo sarà fatto perché io mi stavo chiedendo insomma noi abbiamo un paese che ritorna al tema delle privatizzazioni per abatti del debito pubblico abbiamo invece una città dove il problema del trasporto pubblico è importante non l'abbiamo visto in questi giorni e c'è la contestazione molto importante molto grande perché non vogliono che queste società si privatizzano secondo lei abbiamo visto questa strada per le società di trasporto pubblico locale che sono comunque ancora sotto regita di molti comuni non posso esprimere mi partire questo è obbligo credo che il problema del trasporto pubblico locale sia uno dei grandi problemi del trasporto a livello del trasporto pubblico locale sia del modo di organizzazione sia della sua integrazione con altre modalità di trasporto sia estremamente importante dedicheremo molta attenzione a questo sarà uno dei punti ai quali dedicheremo attenzione ma mi è molto piaciuto nell'intervento fatto precedentemente dal collega presidente dell'AEB il richiamo a un concetto di infrastruttura per il tipo virtuale e cioè quello del digital city seguire i sistemi di accessi di un'uva credo che questa sia una chiave di lettura anche dei fenomeni che oggi avvengono è che inevitabilmente impongono anche una integrazione o cross regulation da settori anche di competenze diverse insomma penso ad esempio perché qui si legge della ISVAS e penso ad esempio nel momento in cui si integra una modalità di trasporti è abbastanza evidente che il regime di assicurazione di copertura di rischio non è strutturato se io integro tante di servizi intero nella misura in cui ciò è abbastanza evidente che la copertura dei rischi che normalmente oggi sono calcolati in modalità single mode cioè in una sola modalità probabilmente devono trovare forme che sicuramente mi interessa molto come è molto interessante anche vedere la tutela del consumatore legato a un titolo di viaggio è molto strano per esempio che io prendo un titolo di viaggio che può essere quello di una linea ferroviaria regionale e a un altro sistema di copertura un altro sistema di assicurazione dei rischi ma io sono sempre un scusario sono sempre una merce trasportata sono sempre un soggetto allora se mi chiedo sto annunciando dei campi sul quale non cercheremo non cercheremo di trovare una domanda che la deve fare estroverà che lo sia l'Italia sul suo tavolo anche su questo non è un grazie per la domanda però ho un gran sorriso per fare queste domande io le rispondo con un gran sorriso grazie grazie